Il Partito Democratico tiene a Como. È la prima formazione del capoluogo con il 24% dei consensi. Consolazione, pur magra, di una tornata elettorale dalla quale i Dem sono usciti pesantemente sconfitti, sia a livello nazionale, sia a livello locale. È quindi il momento dell'analisi, dell'autocritica, anche dura, come ha dimostrato ieri sera ai TV Stefano Fanetti, capogruppo del Partito Democratico, in Consiglio Comunale a Como. La Lega è stata molto abile a incanalare delle problematiche che, dobbiamo farci un serio esame di coscienza, noi come Partito Democratico non siamo riusciti a trattare in modo adeguato, penso all'immigrazione, penso alla sicurezza. Su questi temi noi non riusciamo a interagire con efficacia con i cittadini e sono istanze e problemi centrali per loro e forse noi dovremmo scendere un po' dal piedistallo e cercare di metterci nei panni delle persone a comune, cose che ultimamente non riusciamo a fare.